Hanno portato via 19 canne dell'organo antico del 1849. È un danno abbastanza serio. Anche le parrocchie Bersaglio dei Ladri, in azione martedì a Santrovaso, a sparire le canne più piccole dell'antico organo della vecchia chiesa della frazione di Preganziol, un danno morale ed economico per l'intera comunità. Soprattutto moralmente, prima di tutto. E poi economicamente è un danno incalcolabile perché non si possono fare le carni con i metodi di allora, adesso. Il furto in pieno giorno con i malviventi che hanno approfittato del fatto che la chiesa fosse accessibile, come succede sempre. Infatti viene aperta alle 7 e chiusa alle 19. Io ho visto un furgone insolito, ma pensavo fosse quello dell'idraulico perché c'è una perdita d'acqua lì. Invece era un ruolo. In pieno giorno? In pieno giorno tra l'una e mezzo e le due del pomeriggio. I ladri, una volta all'interno, hanno staccato dalla parete il quadro raffigurante la via Crucis e dopo averlo poggiato delicatamente a terra, hanno utilizzato una scala per raggiungere l'organo e portare a termine il colpo. La settimana precedente anche la chiesa più grande era stata oggetto di vandalismi e furti, sparita la tastiera dell'organo. La cattiveria, diciamo così, hanno forzato la vetrinetta, portato via il portachiavi, per cui ho dovuto rifarmi tutte le chiavi che era dentro la vetrinetta, con le chiavi che avevo io. Ma il furto di Santrovaso non è un episodio isolato. Purtroppo ho saputo che anche altre parrocchie, anche ieri, sul Veneziano, non mi ricordo più il nome della parrocchia, e la volta prima a Mogliano Veneto. Noi pensiamo sia sicuramente furti di commissione, su commissione. Furti e vandalismi che hanno spinto Don Daniele ad affiggere questi cartelli che avvertono i fedeli che le due chiese, solitamente sempre aperte, saranno accessibili solamente durante le funzioni religiose. Finché non si mettiamo delle fotocamere, ci organizziamo in modo diverso. Quindi è un danno economico anche da quel punto di vista, chiaramente. Ladri, insomma, sempre più senza scrupoli, che non si fermano di fronte a nulla, nemmeno davanti ad una chiesa. Quelli hanno altri scopi. Il Dio denaro vale più del Dio nostro.